Ci resta ancora tanto cammino da fare per scoprire la presenza domenicana nel Salento. Stiamo ripercorrendo la presenza domenicana agli 800 anni dalla morte del fondatore Domenico di Guzman e stiamo riallacciando la presenza domenicana al culto della Madonna del Rosario, esploso subito dopo l'epica battaglia di Lepanto combattuta il 7 ottobre nel 1571. 1221 morte di San Domenico, 1571 battaglia di Lepanto, 2021. Tre date che segnano emblematicamente un momento di passaggio storico e non potevamo esimerci di visitare una delle più belle, suggestive e spettacolari chiese del Salento. Siamo a Gallipoli, a ridosso delle mura di Ponente. Siamo proprio all'interno di un edificio di culto meraviglioso dove ancora si respira l'aura domenicana. E all'ombra di questo altare che raffigura proprio la Madonna del Rosario, con l'iconografia che rimanda ai due rami, quello maschile San Domenico e quello femminile Santa Caterina da Siena, si dipana il nostro viaggio alla scoperta di segreti e di misteri che noi sveleremo. Ma in questo cammino particolare, nella Perla dell'Oionio, ribalteremo quella che fino a oggi è stata la Volgata. La Volgata raccontata da tanti ma ripercorsa con una documentazione alla mano dallo storico Elio Pindinelli, vicepresidente della Società Storica di Terra d'Otranto. Naturalmente il nostro viaggio non poteva partire dopo l'altare, riferendosi a quello splendido altare di San Domenico. Un altare particolare non solamente per la sua preziosità, visto che si tratta di legno intagliato rivestito con lamine in oro zecchino, ma anche per l'iconografia che nel suo scrigno, come un tesoro, racchiude. Non è tanto a colpirci questa pala d'altare che rimanda a San Domenico di Soriano, ma è l'iconografia che si annida nei medaglioni che sormontano queste statue, che fanno da ornamento all'apparato decorativo. Sono due medaglioni. La Volgata ha parlato come riferimenti a Don Giovanni d'Austria, il comandante della Santa Lega, e qui su quest'altro medaglione al monaco agostiniano Don Alfonso de Herrera. Però il suo studio ribalta questa associazione. Su quale basi? Allora, innanzitutto ammiriamo questo altare che Mario Cazzato giustamente ha detto uno degli altari barotti più belli della provincia di Lecce. Un intaglio in legno stupendo, molto probabilmente attribuibile a Giorgio Aver, un oriundo tedesco che soggiornava a Gallipoli. Un altare settecentesco che però conserva ancora le tracce dell'antico altare settecentesco. Abbiamo ai lati, per esempio, Santa Caterina e Santa Rosa da Lima, che appartengono al precedente altare. E per chi non lo sapesse, a casa, sia Santa Caterina che Santa Rosa sono figure emblematiche del ramo femminile domenicano. Ma in effetti è padre Domenico Domenicano che decide di costruire questo altare. È un Domenicano e vuole esaltare le glorie di famiglia. Le glorie di famiglia, ce lo dice una lapide che è tramandata dal Micetti, vengono raffigurati innanzitutto i progenitori della famiglia degli stradiotti. E abbiamo Carlo, che è un sacerdote, che veste gli abiti con la mantellina rossa del capitolo diocesano di Gallipoli. Era logicamente il razionale, colui il quale manovrava le sostanze del capitolo di Gallipoli. E Leonardo, prefetto di Cavalli, dal cion della bandiera lo dice esplicitamente, è un ufficiale di cavalleria. Quindi nessun legame con Giovanni Dauscia. Glorie che poi si fondono e si confondono in alto alla trabiazione con quel San Domenico di Guzman in gloria. E tutta la chiesa è pervasa da un'altra gloria, quella che rimanda al culto della Madonna del Rosario, che trae proprio l'infa vitale dopo la battaglia di Lepanto. Nella sagrestia annessa alla chiesa dei Domenicani, intitolata la Madonna del Rosario, possiamo andare a ritroso nel tempo per ripercorrere il culto in onore della Madonna del Rosario, che, secondo la tradizione, ha dei passaggi che ora vi racconteremo. Dopo la battaglia di Lepanto, dopo quella clamorosa vittoria, Pio V, un Papa Domenicano, decise di affidare la cristianità alla Madonna della Vittoria. Qualcuno anche la definisce come la Madonna delle Vittorie sull'Islam. Il suo successore, Gregorio XIII, trasformò l'intitolazione dal culto in onore della Madonna della Vittoria al culto in onore della Madonna del Rosario. E la distinzione è precipua, perché l'iconografia non racchiude emblematicamente i grani del Rosario, ma nella prima versione delle Rose. Non a caso, in molti, chiamavano quella Madonna anche come la Madonna delle Rose. Elio, allora, qual è la distinzione netta, oltre a farci cavalcare nel tempo e vedere le varie fasi, qual è la precipua peculiarità di questo affresco murale, che purtroppo è un po' in stato ridegrato. Chissà, se fosse restaurato, che altri elementi darebbe per ricostruire un'altra pagina importante della storia, non solamente a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale. Bene, qui possiamo, con evidenza, rilevare che la Madonna è la Madonna delle Rose, la Madonna della Vittoria. Quindi, una delle prime immagini iconografiche di quella che sarà la Madonna del Rosario nel 1573 con Papa Gregorio. Ebbene, anche la iconografia si discosta da quella classica. Noi sappiamo la Madonna del Rosario, San Domenico e Santa Caterina. Bene, qui c'è San Domenico, il bambinello Gesù che accarezza la barba di San Domenico, però sulla destra noi vediamo un personaggio che qualcuno ha sempre confuso con Santa Caterina. Innanzitutto c'è una palma. La palma può essere o quella del martirio o quella della vittoria. Santa Caterina non era una martire e quindi non può appartenere a Santa Caterina. Ma guardando attentamente vediamo che la gamba del personaggio ha il rivestimento di una armatura e al fianco corre una spada. Ecco, quei capelli lunghi potrebbero ipotizzare la presenza in questo affresco di Don Giovanni d'Austria. D'altronde è possibile. I Domenicani vivevano di questa tradizione qui a Gallipoli anche perché Don Herrera, vescovo di Gallipoli, era stato il cappellano militare di Don Giovanni d'Austria. e quindi qui sì, ecco, qui sì che può essere avvalorata la presenza di Don Giovanni d'Austria. Guardiamo anche un passaggio fondamentale. Il monaco agostiniano Alfonso d'Errera, cappellano militare, alla morte del vescovo di Gallipoli, se non sbaglio Monsignor Cibo, per suoi meriti personali, nonostante la soveneranda età di 70 anni, viene trasferito proprio qui a supplire l'assenza e quindi diventa vescovo di Gallipoli in quel periodo. Certo, anche perché Gallipoli all'epoca era una sede appetibile, aveva molte entrate, molte prebende, quindi una rendita consistente per chi venisse nominato vescovo di Gallipoli. Qui poi, oltretutto, essendo un sottoportico di un chiostro domenicano, ecco, qui si è voluto magnificare la vittoria di Lepanto con questa bellissima scena della battaglia di Lepanto, ma anche sulla sinistra vediamo la Basilica Costantiniana, quella che era prima della Basilica di San Pietro e la identifichiamo facilmente, probabilmente, innanzitutto con la scalinata, la statua di San Pietro sulla sinistra, sulla destra c'era San Paolo, le chiavi decussate e una processione che molto probabilmente potrebbe essere quella del 1572 con Pio V, oppure quella del 1573. gli ambiti temporali sono quelli con la proclamazione della Madonna della vittoria e della Madonna del Rosario. Ma torniamo all'Lepanto, visto che in questo percorso stiamo raccontando gli antefatti e come si è svolta questa battaglia, ma soprattutto quello che è stato fatto per dar manforte e andare a combattere in onore della croce per salvaguardare la cristianità. Fu un trionfo, lo vediamo dalle galè che combatterono contro la flotta turca. Non a caso, tornando al discorso del monaco agostiniano Alfonso Derrera, lui viene mandato a Gallipoli al di là dell'appetibilità della città libera e franca, ma anche perché Gallipoli aveva dato e aveva svolto un ruolo sostanziale, strategico, fondamentale. Nella rada di Gallipoli accorsero molte navi, navi che poi salparono per andare a raggiungere la flotta che era stanziata a Messina e da lì poi partirono per andare a combattere quasi nel golfo di Corinto, nella località di Lepanto. La cosa fondamentale è che molti signorotti del posto, molti feudatari, organizzarono delle navi, organizzarono eserciti. Abbiamo visto il Castromediano per Cavallino, abbiamo visto Giovanni Antonio secondo Protonobilissimo per Muro Leccese. A Gallipoli ci furono altri personaggi che epicamente andarono a combattere in bottaglia. alcuni di questi rimasero feriti altri morirono. Un personaggio per eccellenza fu Matteo Calò che andò proprio alla testa di una galea per andare a combattere il sultano. Quindi Lepanto ha proprio una stratificazione per lo meno nella memoria storica di questa città. Città che ha sempre avuto una forte ascendenza e dipendenza con la casa reale spagnola e questo può essere attestato anche da un'altra situazione presente in questa sagrestia. Sì ma innanzitutto la genealogia della successione spagnola fino ad arrivare alla successione imperiale austriaca però ecco con una sottigliezza molto ideologica la discendenza di San Domenico San Domenico da cui discende Pietro Nunez da Pietro Nunez vi è la discendenza di Giovanna la quale si imparenta con i discendenzi della casa reale spagnola e noi qui possiamo vedere tutto l'albero genealogico fino alla discendenza dopo Carlo V con gli imperatori che sono gli ultimi che si vedono appena ma che noi possiamo immaginare sapendo già qual è la discendenza e tra l'altro con l'affresco dello stemma dell'impero austriaco in alto sul solfitto di questo sottoportico che noi possiamo intravedere appena l'aquila bicipite e gli occhi che si vedono sulla celata dell'elmo e questa era un'espressione adaldica che poteva appartenere solo agli imperatori quindi qui c'è l'esaltazione della discendenza di San Domenico che è la progenie poi dei re di Napoli di Sicilia ma soprattutto i re di Spagna e poi ci sono tutti guarda dalla discendenza dei Leon e degli Aragona fino alla discendenza dei Napoli e dei Sicilia fino a Carlo V e quindi agli Imperatori ma poi è bello non solamente non i medaglioni personaggi ma anche gli stemmi araldici con i motti quindi sicuramente significa andare indietro nel tempo e ricostruire quest'albero genealogico e qui vediamo lo stemma dei Guzman e qui in quel periodo e perché molto probabilmente la datazione è attorno al 1581 impero di Massimiliano d'Austria il priore di questo convento era un Guzman figlio del castellano del castello di Gallipoli quindi Diego Guzman che era il priore di questa e quindi cosa poteva fare uno spagnolo se non esaltare la discendenza a San Domenico lui che era dominicano e la discendenza dell'impero d'Austria quindi Carlo Quinto e gli imperatori come vi avevo pronunciato sono tanti misteri racchiusi in questo scrigno sacro ne abbiamo sviscerati alcuni sicuramente tutti sono intimamente legati alla presenza dominicana a Gallipoli i frati predicatori giunsero in questa terra lambita dal mare nel 1515 e presero possesso come accadde quasi contemporaneamente in altri luoghi del Salento dei luoghi occupati in precedenza dai monaci italo-greci sulle vestigia dei loro cenobi e dei loro luoghi sacri edificarono le loro chiese chiese sontuose spettacolari di una bellezza rara e infinita radicarono in tutta la terra d'Otranto il culto in onore della Madonna del Rosario non scindendo mai il cordone ombelicale al ricordo della gloriosa battaglia di Lepanto esaltando la preghiera e le gesta eroiche di quel Papa Domenicano che tanto contribuì a far riportare la vittoria a Don Giovanni d'Austria e alla Lega Santa Senza ombra di dubbio Elio si può sostenere che Gallipoli non dimentica i frati predicatori che lasciarono un segno indelebile in questo luogo un luogo che fu anche migliorato grazie alle loro due vie quella del pulpito ossia quello della predicazione e quello della cattedra ossia l'insegnamento a nome e gloria del santo fondatore Domenico di Guzman Domenico Grazie per la visione!